Abbiamo Gensomino Casula che è uno scultore e che viene chiaramente dalla Sardegna per proporci delle cose legate alla natura, cioè in realtà di fatto il suo lavoro è legato con ciò che la natura offre. Dico bene? Almeno da quello che noto sono... Sì, da una parte. Esatto, da una parte non è una scultura... Alla natura che siamo, non dobbiamo dimenticarci che la natura siamo noi, per cui incontriamo tutto il resto della natura e dialoghiamo, riusciamo a parlare, non sottarla e vivere a raccontare con lei il meglio di questo incontro. Come nascono le tue opere? Nascono giustamente da questo incontro, dalla valutazione che si può fare in queste opere che noi possiamo incontrare volta per volta e quindi possiamo raccontare della bellezza che è nella natura. Ad esempio se possiamo prendere in considerazione il primo periodo del percorso di natura nel suo linguaggio, il suo linguaggio è espresso dalla stratificazione di essa, per cui attraverso la stratificazione lei si racconta. Lavora in Sardegna? Ho lavorato un lungo periodo in Sardegna, adesso mi sono trasferito nella provincia di Salerno, all'Alta Villa Selentina, per cui ho lavorato tantissimo in quei luoghi, in quei paesi, anche a Salerno c'ho una grande scultura nella città, in tutti quei paesi, tanti di quei paesi, la Italia, quindi diciamo che ho seminato dappertutto alcune belle opere che raccontano della preziosità, della natura di quei luoghi. Quanto costa a volte a uno scultore di staccarci da un'opera che comunque ha creato? Quanto costa? In termini chiaramente di emozioni, di altre cose, non in termini di... Questo costo è immenso, io non riesco, non sono un venditore, quindi non riesco a staccarmi da nessuna opera che io in qualche modo porto avanti, perché quello studio fa parte di un racconto speciale, per cui io non potrei mai privarmi, perché questo racconto mi serve per lo studio che io faccio, perché quando incontro questa natura, lo incontro una sola volta, io non faccio in serie i lavori, io li faccio perché voglio studiare quella natura che mi permette di raccontare il meglio di questo percorso, quindi tutto mi serve per raccontare quella scultura. Come nasce una tua scultura? Quando trovi qualcosa, dici da qui voglio fare una scultura, come nasce? E nasce dall'amore che uno prova verso quel sentimento così profondo, cioè perché nasce dalla capacità e dalla giusta volontà di porsi verso un lavoro che può essere lo scultore, che è il mestiere più difficile al mondo. Per cui fare lo scultore vuol dire qualcosa di eccezionale, qualcosa di scoprire qualcosa che non si conosce prima. Prima non c'era. Cioè la scultura si regala proprio quella forza espressiva che incontri per la prima volta. Cioè diciamo forse una scultura vuol dire anche un parto, no? Ma le tue sculture sono prevalentemente di sasso? Sì, sono di pietra. Di pietra? Sono delle diverse pietre, sì, dei diversi materiali che si incontra nella natura in cui io mi trovo. Quindi vai, che ne so, lungo le rive dei fiumi? Insomma i fiumi, diciamo le montagne. Allora io lavoro tutti i tipi di materiale, dal granito alla trachite all'arenaria, insomma materiali per me impossibili non ce ne sono. Il marmo di Carrara molto probabilmente è la miglior pietra che esiste nella lavorazione, è molto semplice, molto più bella a lavorare. È anche più facile da lavorare il marmo? Si presta molto, sì, sì, si presta molto. E quindi diciamo uno delle pietre che si presta veramente tanto alla lavorazione. Per quello tanti artisti vanno, va proprio col marmo, 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 marmo. Mentre vedo che tu non hai solo marmo, insomma, lavori prevalentemente altre cose, altre... Il marmo mi limita molto, cioè il marmo è, per lo studio che ho io, perché io studio le ripetibilità dell'opera, per cui mi limita in una maniera incredibile. Col marmo, cioè, mi diventa ripetibile, no? Cioè un'opera, perché in effetti è bianco questo, è bianco l'altro, è bianco, cioè quindi è come se fosse ripetitivo. Mentre invece gli altri materiali non sono così ripetibili, insomma. Per cui io sono chi sta studiando le ripetibilità dell'opera e non la, come si chiama, l'opera in serie. Per cui sono due studi completamente di serie. Allora, volevo dire, ovviamente oggi siamo qui perché comunque hanno organizzato una cosa molto legata alla vita dell'ambiente, alla natura e organizzata anche sulla linea e sulla scia di Laudatesi, che è l'enciclica del Papa, che ha un collegamento molto particolare. Il collegamento è San Francesco e dopo mille anni si riparla ancora di ambiente. Quindi il primo francescano che ovviamente è diventato santo, poi praticamente era il primo ambientalista. Allora, che cosa è cambiato nel mondo secondo te e che cosa ti ha espresso la Laudatesi? Allora, il mondo è cambiato sicuramente nell'accelerazione e nella mistificazione della considerazione dell'essere natura. Quindi l'uomo ha dimenticato la sacralità che c'è tra l'essere che dè e quello che lo circonda. Per cui non capisce bene dove direzionare quell'energia che è fondamentale alla propria vita, a una vita che è in completa salute, in completa armonia, in completa, diciamo, in sintonia con l'essere che è dentro e l'essere che è fuori. Oggi l'uomo è cambiato il fatto che vive completamente quello che è fuori, che è esteriore e di quello che è dentro non riesce a legarlo alla sacralità. Allora, la sacralità che è l'uomo, che l'uomo in qualche modo è sacro, è legato al sacro. Per cui non vive quella parte più pregiata, ma vive la parte, diciamo, che sono i soldi, gli interessi vari e, insomma, mercificazione. Quindi questa mercificazione non va in accordo con l'essere che è intelligente, di grande potenzialità intellettiva, eccetera. Secondo me sta sbagliando direzione, direzione vitale. Questa direzione vitale che doveva essere con la natura insieme è diventato contro la natura che è, quella che è dentro e con quella che è fuori. Io lo sento molto, 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 molto grave questo. Bene, grazie, grazie infinite e buon lavoro per le prossime sculture, ovviamente. Grazie a voi di essere stato in...